Ma per intanto noi siamo assai orgogliosi del fatto che il secondo anno che si svolge nella nostra regione, nello specifico quest'anno all'Unical, una sessione di lavoro che ha risvolte caratteristiche nazionali, che impegna anche professionalità, competenze intersettoriali, anche questo dentro dinamiche nazionali. La regione ha dato il padrocino e ha sostenuto questo tipo di iniziativa già lo scorso anno, fa la stessa cosa quest'anno perché questo è un segmento di patologie molto stratificate e a dire il vero per tantissimi anni sottovalutate. Se per un attimo pensiamo al grandissimo valore che ha la diagnosi precoce nell'infanzia, è ormai scientificamente acclarato che i tempi della diagnosi hanno un grandissimo risvolto poi sulla capacità di recupero. Quindi siccome parliamo dell'età dell'infanzia, avere una struttura organizzativa, una struttura anche scientifica, tecnica, un supporto intersettoriale che coinvolge il mondo sociosanitario, del mondo dell'istruzione, noi riteniamo che sia per intanto doveroso, ma che sia anche un elemento di grande valore rispetto all'investimento della società che verrà. È un fenomeno ancora sommerso perché proprio la Calabria ha un dato veramente sensibile in questo senso perché non sono diagnosticate tutte le persone che comunque gli studi clinici danno come indicazione in forma percentuale. La Consensus Conference, che è il documento clinico di riferimento, parla di una percentuale che va dal 2,5 al 3,5% della popolazione in età evolutiva. Gli ultimi dati ufficiali del Ministero dell'Istruzione, del MIUR, danno la Calabria con una rilevazione dello 0,22%. Questo significa che ci sono all'interno delle scuole più di 8.000 persone che non possono esercitare il diritto ad apprendere perché non hanno avuto una rilevazione precoce e perché non hanno gli adeguati strumenti, ma più che strumenti, le adeguate strategie per apprendere. Se noi consideriamo che il disturbo specifico di apprendimento è in assenza completa di deficit intellettivi, quindi abbiamo a che fare con persone assolutamente capaci, ma che hanno delle difficoltà in specifici domini che sono letture, scritture e calcolo, questo significa che praticamente stiamo depauperando il tessuto sociale della nostra regione, non mettendogli in condizione di esercitare il diritto ad apprendere.